A quanto pare tra Tina Cipollari e Ambra Lombardo non scorre buonsangue. L'ex concorrente del Grande Fratello 16 dalle pagine del settimanale di Gossip Nuovo TV è tornato a parlare della storica opinionista di uomini e donne. Ma cosa ha detto la professoressa siciliana? Il suo procuratore le ha domandato se sta prendendo spunto dalla vamp per intraprendere una carriera sul piccolo schermo. A quel punto la nuova fidanzata di Kiko Nalli ha sbottato in questo modo. Non mi ispiro a Tina proprio in nulla, siamo molto diverse in tutti i sensi, ma non mi faccio dire altro. In poche parole la donna si è voluta fermare per evitare di dire delle cose negative che avrebbero provocato ulteriori polemiche. A questo punto tutti aspettano con impazienza la replica della Cipollari. Arriverà presto? Intanto la storia d'amore tra Kiko Nalli e Ambra Lombardo prosegue a gonfie vele. L'airstylist ed ex marito di Tina Cipollari sostiene la compagna in ogni sua decisione, tranne quella di volersi rifare il seno. Intervistata da Nuovo TV, l'ex Jeffine ha confessato di aver fatto il provino per Mela Verde. Sono stata chiamata a fare un provino per condurre Mela Verde, lo storico programma di divulgazione di Canale 5, incentrato sul cibo e sull'ambiente. Mi piacerebbe tanto dimostrare le mie competenze in una trasmissione del genere. Ed eccone un'altra, piazzata in tv. Cosa ne pensate? Fatemelo sapere giù nei commenti. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate like di supporto.